Parla tifoso napoletano. Prima della sfida contro l'Union Berlino, il tecnico del Napoli Rudy Garcia ha utilizzato la conferenza stampa per chiarire la situazione di Lindstrom. Ma prima di proseguire con i dettagli vi chiedo di iscrivervi al canale qui per non perdere le prossime novità. Il giocatore danese non è ancora riuscito a esprimere tutto il suo potenziale a causa del poco spazio ricevuto, da Rudy Garcia. Interrogato su questa situazione, Rudy Garcia ha risposto pensieroso. È importante ricordare che, oltre alle decisioni tattiche, gioca un ruolo fondamentale la prestazione individuale dei giocatori. Per assicurarsi un posto nella squadra titolare, ogni giocatore deve dimostrare la propria capacità di contribuire efficacemente alla squadra, sia segnando gol, fornire assist o fare bene le sue funzioni difensive, che per noi sono altrettanto cruciali. Coloro che si distinguono in questi aspetti hanno una maggiore frequenza di proprietà. Questo spiega perché giocatori come Politano e Quarazchelia sono stati scelti con più regolarità, visto che hanno dimostrato coerenza in tutti questi ambiti. A mio avviso, le parole dell'allenatore Rudy Garcia riflettono un approccio giusto e realistico al tempo di gioco dei giocatori. E tu, tifoso del Napoli, sei d'accordo o no con la decisione di Garcia? Fammi sapere qual è la tua opinione su questo argomento. Lascia il tuo commento qui. Torneremo presto con altre novità.